Nel cuore dell'officina creativa dove si disegna la luce. Ci sono oggetti che fanno parte del nostro quotidiano, che svolgono la loro funzione rispondendo alle nostre esigenze. E poi ci sono oggetti che oltre a tutto questo hanno la capacità di accendere un'emozione. È l'interruttore magico che da sempre muove SLAMP, una presenza assolutamente unica nel panorama del design italiano da oltre 20 anni. Oggetti luminosi istitucenti, originali, che nascono da una ricerca continua, in perfetto equilibrio tra estetica e tecnologia. Il nostro obiettivo è inventarci costantemente la realtà. Pur producendo lampade abbiamo un bisogno disperato di esplorare infinite culture, modi di essere, stili. Questa è una stanza importante, per esempio, la stanza della magia. C'è una grande libertà espressiva e all'interno delle tecnologie che presidiamo come industria, i ragazzi possono creare gli oggetti che vogliono, le lampade che vogliono. Idee brillanti, energia da vendere e tanta passione condivisa. Una formula che ha incantato anche le firme più blasonate dell'architettura, da Zaha, Dida e Fuxas, affascinati dalla grande libertà espressiva e sedotti dalla plasmabilità del materiale. Siamo ancora un po' sartoriali da questo punto di vista. Lo siamo nella fase di ricerca e lo siamo nella fase anche di produzione. Cioè si tracciano degli schizzi, gli schizzi diventano dei primi prototipi e si costruisce il prodotto. In realtà ogni prodotto ha una sua anima, viene fatto, tagliato, cucito, montato a mano. Noi trasformiamo un foglio da 2D verso 3D, quindi questa tecnica che è un po' mediata dall'origami, insieme a tanta perizia sartoriale, io la continuo a chiamare così, del gruppo sia creativo che di lavoro è forse uno degli elementi seduttivi verso i grandi che ovviamente sono il nostro bacino poi di ulteriore cultura, informazione e curiosità. Pensiamo di portare emozioni che si accendono e che rendono quell'attimo in cui tu entri in casa un pochino più felice. Questa è l'anima di Slam. Questa è l'anima di Slam.